allora perdonate la ventosa che mi sta che mi prende un quarto di schermo del cellulare ma purtroppo ci deve stare perché altrimenti non posso fare il video perché se guido non faccio il video e se faccio il video non guido ora stiamo andando in un posto in un luogo dove si può ho guardato su park fortnite dove si può tranquillamente fangheggiare il fuggone almeno che c'è scritto sopra i commenti della recessione dicono che nessuno ti viene a dire niente quindi guarderò un po' come sarà questo posto anche perché voglio un po' dormire io ho un sonno schianto e macista sta già dormendo e l'ho fatto scendere prima per fare i suoi bisogni ma l'ho rimesso subito sul fuggone perché abbiamo due occhini assonnati ora sta dormendo con una bestia e vediamo un po' come vengono fuori questi giorni che starò qua insieme al mio cane bestia peloso furgo e girando la sardegna ma il camper è tutta ranta ne vedo ogni pochino ogni chilometro vedi ho fatto un jeep e camper diverso e quelle belle strade ci sono belle ma mentre la sardegna mi piace tutto anche le strade perché non ce n'è una al momento mi sembra di capire con una buca con un appallamento niente il posto meraviglioso che è questo la gente ottima il posto ottimo i luoghi verdi ottimi è tutto ottimo non c'è niente di disgradevole non c'è niente di brutto niente proprio niente il paradiso terrestre questo non è una regione questo non è neanche secondo me non è neanche italia questo è proprio il paradiso terrestre non è nemmeno da considerare non ho detto di considerare italia nel senso che io disprezzo l'italia però non è c'è per me non è una regione di italia questo è il paradiso terrestre guarda va a parte c'è un vento fa paura strade dritte belle sembra di essere a non lo so in nevada queste strade dritte infinite magari sto dicendo una una cretinata sul fatto delle strade dritte infinite però cazzo vabbè c'è l'alboretto di turno ci deve essere sempre però il resto con le bocche ma sono passato vabbè vado piano vado a 70 qui c'è 50 io vado a 70 o anche troppo forte lui abbia più fretta di merda io la va più forte si vedrà un po' dove ci porteranno queste strade ciao a tutti per il momento